Folla ai funerali di Andrea Sciarrini, il giocatore di palacanestro colto da un malore a soli 40 anni. Oggi l'ultimo saluto nella parrocchia di San Giovanni. Dagli sconti in bolletta al bonus di 200 euro, fanisi contenti dei contributi previsti dal governo. Per i commercianti però non basta, è necessario abbassare le tasse e aiutare anche le imprese. Sicuramente serve un aiuto maggiore. Purtroppo sono difficoltà che ci sono, che persistono e non saranno sicuramente questi 200 euro, questi pochi spicci, insomma a cambiare la situazione. Nuova illuminazione, marciapiede, rampa per i disabili. L'assessore Barbara Brunori annuncia i progetti imminenti e futuri per il bastione Sangallo a Fano. Nuova missione in Zambia per la presidente dell'Africa Chiama, Anita Manti. A breve l'inaugurazione del centro di maternità realizzato dall'associazione grazie al sostegno di privati e aziende locali. Il campione Gianmarco Tambiri sarà il testimonio al social delle marche. Iniziate oggi le riprese degli sport. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, tra sgomento e dolore a Marotta di Mondolfo si sono svolti i funerali di Andrea Sciarrini. Il quarantenne, giocatore di pallacanestro colpito da un malore sabato scorso, poco dopo la partita di campionato giocata in casa contro l'Urbania. Oggi pomeriggio la chiesa di San Giovanni Apostolo non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Andrea, stimato e ben voluto da tutti. Come dimostrano anche i tantissimi messaggi di cordoglio pubblicati sulle pagine social. Il rito funebre è stato concelebrato da Don Enrico Secchiaroli e da Don Steven Carboni. E proprio per dare modo a tutti di seguire la cerimonia sono stati allestiti gli altoparlanti nell'area esterna. Andrea lascia la moglie Ilaria e due figlie di 5 e 10 anni. Cambiamo argomento e passiamo all'annuncio del Premier Draghi sui contributi per aiutare le famiglie a fronteggiare la crisi economica causata anche dalla guerra in Ucraina. Oltre al taglio delle accise sui carburanti, il Governo ha previsto dei bonus e degli sconti in bolletta. Un bonus da 200 euro per pensionati e lavoratori con un reddito fino a 35.000 euro è una delle misure annunciate dal Premier Mario Draghi per supportare gli italiani nelle difficoltà legate al caro prezzi. Si tratta di un contributo, una tantum, destinato a 28 milioni di famiglie che nel caso dei pensionati verrà erogato dall'Inps nel mese di luglio. A far avere il bonus ai dipendenti direttamente in busta paga ci penseranno tra giugno e luglio i datori di lavoro che a loro volta potranno recuperare la somma al primo pagamento di imposta utile. Gli autonomi invece potranno attingere da un apposito fondo che verrà creato a breve. Inoltre, nello stesso Consiglio dei Ministri, il Governo ha deciso di prorogare per altri tre mesi il bonus sociale sulle bollette. Il beneficio viene steso a luglio, agosto e settembre ed interessa a tutti i nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro o non superiore ai 20.000 per le famiglie con almeno 4 figli a carico. L'altra novità è che il bonus è diventato retroattivo, quindi che ha già pagato le fatture di luce gas senza lo sconto ma ha rilasciato una dichiarazione ISEE che gli dà diritto al contributo, riceverà un rimborso automatico nelle bollette successive. Invece, nel caso in cui il pagamento non sia ancora stato effettuato, l'importo verrà rideterminato. Dunque, un provvedimento che farà tirare un sospiro di sollievo a tante persone che in questi mesi hanno dovuto fare i salti mortali pur di non risultare utenti morosi o inadempienti. Penso che sia una cosa buona, perlomeno diamo un pochino di più per spendere a queste persone che hanno un reddito basso. Lei quanto ha ricevuto ultimamente di gas, luce? No, io non ho avuto grossi aumenti, anche perché ho un consumo rispetto all'anno scorso di poco più alto. Poi adesso ancora devono arrivare le ultime bollette, ma diciamo siamo lì, ecco. A molti miei amici sono arrivate delle belle stangate. Sì, belle stangate. Comunque, forse non dovrebbe essere una cosa sporadica ma più frequente? Diciamo del bonus sì, potrebbe essere una cosa un po' lasciata nel tempo, ecco, non data e poi dimenticata, insomma, ecco. Comunque, intanto è importante che venga data. Sì, è importante che venga data, anche perché diamo possibilità di muovere un po' il mercato, insomma. Sì, l'ho sentito parlare. Cosa ne pensi? Contenta? Beh, se mi arrivassero sì, devo dire. Ma dicono nel mese di luglio. La qualità dopo, che sia una cosa buona o meno, sai, a volte non lo so. Quindi intanto un passo iniziale. Diciamo sì, continuare a dare soldi senza creare poi invece altre attività che invece producono soldi. Perché continuiamo, bonus, 110, ci sono tante cose che vengono, non lo so. Smuovono tanto lavoro comunque, 200 euro in più. Io che sono artigiano, la pressione è bassa, farebbero comodo. Di lei quanto ha ricevuto di bolletto ultimamente? Ha ricevuto delle cifre molto alte rispetto a prima? Sì, il gas è 600 euro in più. E dunque rateizzate, tutto quel che vuoi, però sono tante. Ma sarà che ce li danno. Lei ancora non lo sa? Io l'ho letto su internet, è una bella notizia, però speriamo. A lei quanto gli è arrivato di luce, di gas, molto alte le bollette? No, perché ho fatto un contratto. Io ho bloccato l'anno scorso giugno. Adesso se non ci danno il gas cosa dobbiamo fare? Io ho messo sull'aria condizionata, metto la pompa di calore e vado con la luce. Metto i pannelli, tanto. Soddisfatta comunque se li avrà? Eh vabbè, benvengano insomma. Bene questo piccolo bonus, ma non basta. Per alcuni commercianti il governo dovrebbe mettere in campo aiuti concreti anche per le imprese già duramente colpite prima dalla pandemia e ora dai rincari generalizzati. Adesso questa può essere una cosa anche giusta, ma bisogna che pensi a tutto il resto. È vero che anche i pensionati ci trovano in difficoltà, però anche nel settore nostro per dire... E ha un bar qua. Certo, e quindi voglio dire da noi, nel nostro settore le difficoltà sono enormi. Perché ci troviamo con bollette raddoppiate, con cifre, insomma, io nel mio piccolo, chi ha l'attività più grande comunque, con costi che a fine mese incidono. Andando avanti di questo passo non so dove andiamo a finire. Secondo lei ci vorrebbe un attanto, ma anche per le imprese? Dovrebbero dare un sostegno, insomma, bloccare i prezzi, cioè agevolare anche le imprese tutte, se no, voglio dire che qui alla fine non si assume più, le aziende chiudono, cioè tanto la fine... Tutto un giro. Uno si ritrova a lavorare, a lavorare, a far tantissime ore per pagare poi le varie esigenze pubbliche, diciamo, private, bollette e quant'altro. E quindi si spera bene, ma io sono molto ottimista comunque. Sicuramente può aiutare nella gestione familiare di tutti i giorni, ma anche per incentivare un po' il potere d'acquisto, sicuramente. Diciamo che oltre a questo bisogna sicuramente intervenire anche per quanto riguarda il cuneo fiscale per le imprese. Solo un punto di partenza e quindi bisogna sicuramente influire di più, dare di più, ripeto, sicuramente ai lavoratori, alle imprese e a tutta la filiera. Per poter avere poi per, diciamo, il cliente finale potere d'acquisto, perché se poi non c'è un potere d'acquisto finisce tutto il discorso economico. Quindi questo è fondamentale. Ben venga, ben venga però che non sia un caso sporadico. Purtroppo bisogna abituarsi che servano degli aiuti, servano aiuti importanti, che non siano una tantum, ma siano continuativi nel tempo. Purtroppo, appena usciti da questa pandemia, da questo momento di difficoltà, ci vorranno almeno, almeno, almeno questi tre anni per cercare di tornare a pieno regime e recuperare quello che purtroppo si è perso, sia come attività imprenditoriali, sia come dipendenti, che purtroppo sono stati fermi, avendo a disposizione soltanto cassa integrazione, comunque stipendi che purtroppo a volte, spesso, non sono arrivati o sono arrivati in ritardo. Quindi ci sono delle situazioni pregresse che vanno sistemate e per questo serve tempo e aiuto da parte dello Stato. Invece voi, per quanto riguarda le bollette di luce, energia, quindi gas, quanto sono aumentati i costi? Gli aumenti sono stati molto, molto importanti. C'è stata la corsa anche di diversi imprenditori a cercare di cambiare, diciamo, fornitore di energia elettrica, però non è stato quello, insomma, l'arma vincente perché purtroppo sono tutte aumentate. Si fa la corsa a cercare di spendere il meno possibile, quindi a cercare di utilizzare anche quelle che sono le luci o quant'altro soltanto nei momenti di vero bisogno e cercare di spegnerle magari quando non c'è la necessità, però purtroppo sono difficoltà che ci sono, che persistono e non saranno sicuramente questi 200 euro, questi pochi spicci, insomma, a cambiare la situazione. Sicuramente questo è un gesto importante intanto appunto per le persone fisiche, per le attività sicuramente serve un aiuto maggiore perché comunque le utenze, le difficoltà che può avere un'attività sicuramente in maniera proporzionata non sono le stesse, non hanno gli stessi importi delle utenze di un'abitazione. A partire da ieri e per tutto il mese di maggio, le famiglie residenti nel territorio dell'ambito sociale 6 potranno richiedere un contributo in denaro per superare situazioni di disagio. In particolare sono previsti per il sostegno abitativo di nuclei monogenitoriali o con figli minorenni rimasti orfani oppure a sostegno di famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a 4. Le domande dovranno pervenire al proprio comune di residenza e entrano in oltre il 31 maggio con le modalità indicate nell'avviso pubblico che potrà essere consultato insieme alla modulistica su sito internet dei rispettivi comuni ma anche sul sito dell'ambito. L'ammontare massimo del contributo pari a 500 euro verrà erogato una tantum ai beneficiari mediante accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale. Ancora cronaca, in occasione della fiera di San Ciriaco ad Ancona la Guardia di Finanza ha constatato 10 mancate emissioni della documentazione fiscale con sanzioni minima di 166 euro ciascuna. Inoltre sono stati individuati due commercianti che avevano esposto per la vendita un centinaio di prodotti irregolari che riportavano marchi contraffatti o comunque non erano conformi alla normativa prevista dal Codice del Consumo. Circa 60 articoli elettronici potenzialmente pericolosi per i lineari acquirenti sono stati sequestrati e il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'emissione della sanzione che va da 516 a 25 mila euro. Invece un altro commerciante che aveva in vendita 40 indumenti per bambini ritenuti contraffatti è stato denunciato e anche in questo caso la merce è stata posta sotto sequestro. Un nuovo marciapiede, rampa per i disabili e illuminazione scenica per il Bastione Sangallo a Fanno. L'assessore Barbara Brunori annuncia i lavori che partiranno dopo l'estate ma anche gli altri obiettivi come quello di realizzare una scala e nuove uscite di sicurezza e dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Progettato da Antonio Sangallo nel 1532 su volere di Papa Clemente VII il Bastione che oggi sorge a fianco della stazione ferroviaria di Fanno è uno dei tanti monumenti unici e storici nella città fanese. La struttura, che nasceva a scopo difensivo, fu portata a termine nel 1552 da Luca da Sangallo nel periodo del pontificato di Giulio III il cui simbolo campeggia ancora nello Sperone. Internamente si divideva in due livelli, uno più alto, da dove le artiglierie avevano modo di controllare mare e spiaggia, e uno più basso, per la parte opposta. Ad oggi questo luogo è aperto al pubblico sia per visitarlo ma anche per viverlo grazie ai tanti eventi culturali organizzati dalle associazioni al suo interno. Ma con il passare del tempo alcune zone sono diventate ammalorate come il marciapiede e l'accesso in legno per i disabili. Proprio per questo sono in programma, per dopo l'estate, degli interventi di riqualificazione. Partiranno quelli che sono la riqualificazione, quindi la realizzazione di tutta una nuova rampa d'accesso nella parte alta del bastione, proprio per favorire l'accessibilità a tutte le persone con disabilità, che oggi è molto ammalorata. Poi avremo tutta una nuova pavimentazione invece nella parte sotto del bastione, proprio qui di fianco, dietro alle mie spalle, diciamo con materiale levocel, che è lo stesso che abbiamo utilizzato sopra la darsena, e con un'illuminazione architetturale suggestiva, quindi con l'illuminazione che spara dall'alto proprio come quella del Pincio, proprio perché vogliamo valorizzare questo luogo. Inoltre il Comune ha intenzione di riprendere in mano un vecchio progetto redatto nel 2006 che ha come intento quello di migliorare la connessione con la parte alta del bastione con quella bassa, attraverso la realizzazione di una nuova scala e uscite di sicurezza. Sicuramente è un lavoro da riverificare perché quel vecchio progetto non fu sottoposto alla sovrintendenza dei Vigili del Fuoco, per cui sarà il motivo per il quale daremo un nuovo incarico ad un nuovo progettista, grazie al quale migliorerà sia la fruibilità ma anche la capienza di questo luogo. E questo è il motivo per cui tutti i luoghi della città che hanno un prestigio di storia hanno la necessità di essere vissuti. Il 7 e l'8 maggio a Schieto in un solo siterà la festa della Madonna del Giro, un santuario itinerante legato a una tradizione molto amata nel territorio di Pesero e Urubino. Durante le celebrazioni che si tengono nel mese di maggio, il dipinto della Vergine attribuito all'urbinate Antonio Viviani viene portato in processione da una parrocchia all'altra nella congregazione della Valle del Foglia. Quest'anno da Castel Cavallino la Sacra Immagine va a Schieti e la processione avrà inizio sabato mattina alle 9.15. Seguiranno una Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Giovanni Tani, l'esposizione del Santissimo Sacramento, il Santo Rosario e la veglia di preghiera alle ore 21. La domenica invece gli appuntamenti avranno inizio alle ore 10 con le confessioni e la Santa Messa, mentre nel pomeriggio alle 17.30 si terrà la processione con la Sacra Immagine per le vie del Paese, con la preghiera di consacrazione alla Madonna e la benedizione della parrocchia. La festa si chiuderà alle ore 22 con uno spettacolo pirotecnico. Da domani al Paricentro di Fano sarà attivo un nuovo sportello gratuito di ascolto psicologico dedicato alle famiglie, servizio e a cura dell'Associazione Giunone Fano. Dal 5 maggio presso il Paricentro, tutti i giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 13 sarà a disposizione lo sportello psicologico a cura delle psicologhe dell'Associazione Giunone di Fano. Lo sportello sarà uno spazio dedicato all'accoglienza, all'ascolto e al supporto di tutte quelle situazioni di difficoltà, di disagio esistenziale, relazionale, a cui ogni individuo, ogni coppia giovane ma anche famiglia, tutte le famiglie possono accedere. Si può prenotare un appuntamento attraverso il sito di paricentro.it oppure telefonando al Paricentro o ancora recandosi proprio al front office di Paricentro. Potete lasciare nome e cognome, numero di telefono e una mail e l'appuntamento verrà riconfermato. Allora noi vi aspettiamo da giovedì 5 maggio. Quartiere Lebrecce tra passato incompiuto, presente degradato e futuro indefinito si intitola così l'interrogazione che è stata presentata dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che chiedono a Sindaco Seri alla sua giunta per quale motivo non è stato realizzato un sottopasso ciclo pedonale su Via del Bersaglio, a che punto è l'iter di realizzazione della strada delle barche e se vogliono farsi promotori nei confronti del Ministero per poter destinare ad un uso diverso la zona dell'ex poligono militare, con la Montagnola che di volta in volta impegna il Comune per decine di migliaia di euro. Inoltre i pentastellati chiedono entro quando verranno innalzate le tre scogliere per quale motivo il cosiddetto waterfront arrivi solamente all'anfiteatro Rasta, tese Sassonia Sud, sarà interessato comunque da un'opera di riqualificazione oppure se sarà lasciata all'abbandono come avviene ormai da anni. Come se il quartiere Lebrecce, si legge sempre nell'interrogazione, non meritasse le stesse attenzioni di ogni altra parte della città. È tornata dalla missione in Zambia la presidente dell'Africa chiama Anita Manti che ci ha raccontato di questo viaggio della speranza e dell'impegno per prevenire la disabilità attraverso la tutela della salute materno-infantile. Dal 2007 l'Africa chiama impegnata nella baracopoli di Kenyama, la più grande capitale dello Zambia, che conta oltre 350.000 abitanti. Senza dubbio l'area più degradata di tutta l'USACA, dove i pochissimi servizi sanitari ed educativi non rispondono neanche parzialmente ai bisogni della popolazione locale. Proprio qui la presidente Anita Manti ed Emanuele ai Juveniti, socio e volontario dell'organizzazione, sono tornati ancora una volta per dare un supporto alle persone in difficoltà. Un viaggio di nove giorni che fa seguito al container della solidarietà partito da Fanno la scorsa estate, con attrezzature e materiale di arredo dessinati al centro di maternità realizzato dall'associazione. Sono stata proprio pochissimi giorni fa in Zambia e precisamente all'USACA, dove l'Africa chiama è già presente da tanti anni, con diversi progetti sia sul settore dell'istruzione alimentazione ma anche sanitario. E proprio su questo settore l'Africa chiama negli ultimi anni si è impegnata tantissimo nella realizzazione di un nuovo centro di maternità. Nasce appunto da un percorso che l'Africa chiama ha fatto in questi anni nella prevenzione delle disabilità e proprio le cause della disabilità nascono soprattutto e sono fortemente legate al momento del parto. E quindi a Caniama attualmente l'ospedale governativo è molto piccolo e ha soltanto otto posti letto. E in questi anni l'Africa chiama si è impegnata nella raccolta fondi per la realizzazione di un centro di maternità che raddoppierà i posti letto, arrivando quindi a ben 16 posti. L'ultimo mio viaggio in Zambia, ha ricordato Anita, risale a tre anni fa in occasione della posa della prima pietra dell'ospedale. Poi gli eventi della pandemia hanno rallentato le nostre attività ma non le hanno fermate, anzi. Oggi possiamo essere, come dire, orgogliosi di aver completato la struttura esternamente in muratura e quant'altro ma anche nell'allestimento con tutte le strutture biomedicali che sono in parte state donate anche dai nostri donatori locali, ospedali, medici e le abbiamo inviate appunto con questo container. Si attende l'inaugurazione ufficiale però intanto vengono eseguite delle visite? Assolutamente sì, l'attività di screening prenatale è ormai avviata da diverso tempo e l'inaugurazione ci auguriamo di farla veramente entro poche settimane. In questo viaggio ho avuto la possibilità di parlare direttamente con i responsabili del Ministero della Salute, ho incontrato le istituzioni locali che si sono impegnati fortemente nell'invio come negli accordi iniziali del personale sanitario. Questo consentirà quindi una sostenibilità del nostro progetto a lungo termine. E com'è possibile sostenere appunto questo progetto attraverso l'Africa Chiama? La campagna che stiamo portando avanti in questo periodo si chiama appunto Mille Giorni di Vita. È una campagna dedicata alla salute materno-infantile, quindi garantire una prevenzione alle mamme durante la gravidanza, ma anche le cure mediche dei bambini nei primi appunto Mille Giorni di Vita. E siamo anche vicino alla festa della mamma, quindi sicuramente l'Africa Chiama sta proponendo un regalo solidale che andrà a sostegno di questo progetto. Da questo viaggio mi porto con me il desiderio di tutte le donne di Kaniama di poter far nascere i propri bambini in un ambiente sano, sicuro, ma anche bello. La regione Marche si affida a Gianmarco Tamberi oro olimpico a Tokyo 2020 di salto in alto per promuovere il territorio attraverso i canali social. Oggi sono iniziate le riprese che impegneranno il campione e che coinvolgeranno tutte e cinque le province. Le Marche, ha commentato il presidente Francesco Acquaroli, assessore al turismo, sono una terra di campioni che qui trovano gli stimoli e le motivazioni per crescere e migliorarsi. Gianmarco, ha detto ancora Acquaroli, continua a vivere e allenarsi nelle Marche per raggiungere nuovi traguardi sportivi. I suoi successi ci rendono orgogliosi soprattutto per come sono stati conquistati con il sacrificio e la determinazione e la forza di credere fino in fondo in un obiettivo così importante. Ancora sport con l'importante collaborazione tra l'Associazione Giovane Sant'Orso e il Football Club Internazionale Milano. Il 29 e 30 aprile si sono tenute le due giornate di formazione per 30 allenatori delle Marche che hanno avuto modo di analizzare e di confrontarsi con le metodiche illustrate dai coordinatori Under-11 dell'Inter. I prossimi appuntamenti con la categoria degli esordienti si svolgeranno il 13 e 14 maggio e saranno tenuti dai coordinatori Inter Under-14. Gli incontri sono tutti gratuiti. L'Associazione ricorda anche l'evento dell'estate denominato Inter Summer Camp che si terrà dal 20 al 24 giugno per i ragazzi dai 6 ai 14 anni nelle strutture della Giovane Sant'Orso a Fano. Vi ricordo che lunedì sera primo cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Invece l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.